Siete stati rapiti Sì, ok E tu? Dami il telefono Pronto? Ho rapito tuo figlio Portami immediatamente 10.000 euro in contanti O se no lo rivedrai mai più 10.000? Guarda che non vi bastano Mangia come un maiale quello Uno o due giorni l'è finita E allora dammene mille Questo è perché sei sempre con il telefonino in mano Do Riattaccato Sì, ok Scusa ma non hai paura? Ma tu lo sai chi sono io? Sentiamo chi sei Un pirla da solo in macchina Simpatico Io sono il nipote di Putin Il nipote di Putin Sì, va bene E io sono il cugino del Babbo Natale Ma stai zitto, va Zappuskart e racchete Cosa che hai detto? Addio bello E dove credi di andare? Mannaggia Mi è scappato Vabbè dai E ho rapito Vabbè dai Vabbè dai Vabbè dai Vabbè dai